Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MEG Oggi non voglio assolutamente fare un video che parla di motore o parla di queste cose qua Perché? Perché semplicemente oggi è l'ultimo giorno dell'anno E io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti, tutti voi Tutti voi che mi avete iscritto, vi avete messo mi piace Avete condiviso i video del mio canale, avete fatto iscriviti Perché portare un canale in due mesi da 0 a 25 iscritti In un periodo come questo che vive YouTube È una cosa diciamo non ottima ma buona E va più che bene per quello che serve a noi Voglio cogliere l'occasione di ringraziare tutte le persone che ho avuto a fianco in questo periodo Che mi hanno dato una mano a rilanciare questi vari brand si fa per dire E ringraziare tutti gli appassionati di motore che si fanno sentire tramite i nostri social I miei social e di tutti quelli che circondano e gravitano il mondo di futura corse E Meg Motorium Games Voglio innanzitutto augurarvi ancora e ancora un buon 2018 Sia motoristico ma anche un buon 2018 a livello di sentimenti, di ragazze, di salute Di tutto quello che ci può essere di bello per il prossimo anno Mancano poche ore Io sto per... quando vedete questo video forse già l'anno nuovo forse no Io comunque vi faccio i miei sentitissimi auguri a tutti e a tutte le persone che mi sono state vicine Per lanciare questa, diciamo, attività, questo gioco, questo divertimento che è Meg Futura Corse E niente, vi voglio dire grazie, vi voglio bene, vi voglio bene a tutti gli utenti A tutti quelli che mettono un like in questi video, in questo video o quello che condividerete Sarà un anno 2018, spero, divertente se seguite il mio canale o che altro Ci saranno tante recensioni di tanti oggetti Purtroppo a volte i video vengono male, vengono bene Lo dico perché io non sono uno youtuber professionista Mi manca ancora molto materiale per fare i video alla perfezione Si fa quello che si può Come potete vedere e avete visto durante i social Ci sono tante cose belle che sto cercando di montare insieme Tanti eventi da portare la gente in giro a fare le gare E speriamo di riuscire a farcela Colgo comunque l'occasione per ringraziare E qua ho fatto una lista di nomi Non per fare una marchetta ma perché ci tengo a farlo Nomi che per me è stato importante dalla nascita del 2016, del 2015 di questo progetto In primo luogo voglio ringraziare il mio compagno Che anche se ultimamente non ci vediamo spesso Luca Caselli che è stato l'altro, diciamo, socio Ho chiamato come voi partner, padre, madre Di questo progetto che è Futura Corse Voglio ringraziare Andrea Saltari Perché è quello che è sempre intrigato in ogni evento motoristico Di rilevare importanza E che ci ha presentato tanti altri piloti Voglio ringraziare tutte le persone che in passato e in futuro Parteciperanno alle gare Tipo Bassi Michele, Matteo Cuoghi, Thomas Romagnoli, Pasquale Via E tutte le persone che sono gravitate Voglio ringraziare le piste La pista come Xtreme che ci ha sempre dato un servizio super super ottimo Per organizzare le gare lì Voglio ringraziare tutto quello che c'è nell'ecosistema motoristico amatoriale Ok? E quindi, detto questo Fatta questa marchetta personale Un buon 2018 Detto questo State attenti Cascolacciato sempre Luce accese anche di Gione e anche Capodanno E prudenza Sempre